Nato a Liegi da madre tunisina, Debbie fa il suo debutto come attore all'età di 16 anni, recitando da protagonista nel film Le sole assassine, prodotto dai fratelli Dardenne, che gli vale una candidatura al premio Joseph Plateau come miglior attore Si forma presso il Conservatorio Reale di Bruxelles, il Conservatoire National Superior d'Art Dramatique di Parigi e la London Academy of Music and Dramatic Articolo Nel 2010 vince il premio per il miglior attore al festival di Biarritz col film televisivo L'Infiltrato, di Giacomo Battiato, mentre nel 2014 viene candidato al premio Magritte come attore più promettente per il film Les Sacs de Farine, di Cadillac Lecler A livello europeo recitane Il figlio dell'altra di Laraine Levy e Una storia sbagliata di Gianluca Maria Tavarelli, facendosi notare anche in produzioni internazionali come La spia, A Most Wanted Man e Attacco al Potere 2 Nel 2020 è tra i protagonisti della serie Netflix Missiah Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane